Ruggero, ma come ti è venuto in mente di fare il regista? Meglio che il muratore. Perché guidavo una macchina che il figlio di Rossellini non poteva guidare perché non aveva la patente. E lui mi dice, entri dentro il portone così facciamo uno scherzo alla portiera. Io entro perfettamente nella macchina, nel portone, in quel momento esce Roberto Rossellini. Il figlio si butta per terra perché aveva paura del padre. Io abbo la porta, la faccio come il guru, e faccio maestro, visto che manovra ho fatto. Ruggerino, quest'istante tu vieni a aiutare. Così è cominciato. Fuoco sacro, un applauso al fuoco sacro di Ruggero Diodato. Un applauso al fuoco sacro, un applauso al fuoco sacro di Ruggero Diodato.